Ciao, io sono Evelyn, sono specializzata in trucco semipermanente, più precisamente nella correzione e nella rimozione del trucco semipermanente. Infatti nella mia esperienza mi è capitato più spesso di correggerlo o rimuoverlo che non di farlo da capo. Questo perché purtroppo prima il trucco semipermanente veniva fatto in modo molto veloce, a volte senza prendere le misure, oppure il piegamento non era adatto per il viso. Oggi i tatuaggi sul viso sono fatti in maniera molto più sicura e principalmente possiamo correggere in modo efficace e senza rischi di cicatrici. Per quello abbiamo due possibilità. La prima è il camouflage, cioè se la forma del tatuaggio va bene ma non sei soddisfatta del colore, magari è diventato grigio, freddo, viola, allora possiamo coprirlo con un nuovo colore. L'altra possibilità invece è che se la forma non va bene e dobbiamo cancellare dei pezzettini o comunque tutto il tatuaggio, allora dobbiamo usare una tecnica che si chiama Fear Removal. In questo modo andremo a fare una rimozione del vecchio tatuaggio senza rischi di cicatrice, in modo che possiamo creare una nuova forma. Alla nostra modella abbiamo eseguito il camouflage. Abbiamo infatti capito che la forma poteva essere inglobata in una nuova forma più moderna e quindi abbiamo lavorato solo sul colore. Nella prima seduta abbiamo utilizzato il colore ocra, aspetteremo un mese per la guarigione e dopodiché andremo a utilizzare il colore più simile ai suoi capelli e alla sua pelle. Se anche tu hai avuto una brutta esperienza col trucco semipermanente e non vedi l'ora di cambiarlo o di cancellarlo, noi siamo a disposizione per una consulenza gratuita dove ti facciamo vedere la nuova forma e il nuovo colore che possiamo eseguire.